Colpo a sorpresa del Lavellino che lavora sotto traccia per consegnare a Mr. Novellino una rosa competitiva nel campionato che comincerà ad agosto. La dirigenza erpina nelle prossime ore si assicurerà la firma di Simone Pecorini. Classe 1993, il duttile difensore milanese Scuola Inter sarà il rinforzo per la fascia destra dopo aver sistemato quella mancina con rizzato e molto probabilmente falasco. Un profilo seguito anche nelle scorse finestre di mercato con l'affare che non si è mai concluso. Sarà la volta buona, Pecorini sposerà il progetto Avellino dopo aver debuttato nel calcio che conta con la maglia del Sassuolo in Serie B nel 2011. Sempre dall'Inter viene girato in prestito prima all'Empoli e poi al Cittadella dove resta per due anni. Dopo la retrocessione dei Veneti e 47 presenze, i nero-azzurri lo richiamano per poi rimandarlo in prestito. E' Lascoli a credere fortemente nel ragazzo e lo acquista nel 2015. 28 presenze ed un gol con i marchigiani prima dell'addio che matura nel gennaio scorso, destinazione Virtus Entella. Ora Pecorini ad un passo dalla firma con l'Avellino, già esperienza da vendere e buona qualità. Per Novellino sicuramente l'uomo giusto.